18 anni alla Carlotta per il compleanno e regano un giocatore in the sexy shop, passa un po' di tempo e ha mani incastretti sotto, va al pronto soccorso, decidono di operare ad urgenza e fanno l'anestesia e l'intervento, questa si svea dall'anestesia e c'è il dottor davanti, ah va dottor come ita, come ita, come ita, come ita, come ita, ma dei coca una bella e una brutta, la brutta è se ne riuscite a cavare, la bella è se ne riuscite a cambiare le pine